eccoci qua ragazzi con questo nuovo video oggi andremo a montare il decat ma come potete vedere l'ho già montato in quanto ho registrato il video con la hero 5 e ovviamente non è partito l'audio quindi ho registrato un pezzo di filmato totalmente muto e quindi facciamo la intro con il pezzo già montato e poi vedrete il montaggio ma prima di iniziare iscrivetevi al canale attivate la campanella e sigla a breve arriverà al kit di eq studio e andremo a montare il cambio elettronico successivamente con lui seteremo il bleeper e andremo appunto a togliere il sistema sas che serve per ossigenare il catalizzatore che non c'è più escluderemo via software tramite centralina e andremo a installare i vari tappi escluderemo il sistema elettronico che lo comanda ok questa la possiamo togliere che ci serve dopo siamo l'anti tiriamo via il terminale ve lo appoggiamo qua via la fascetta che ci serve per il decat a questo punto andiamo a togliere l'altra fascetta che è in basso e lì si è in basso o il cocane dove l'hanno messo ci va brutto vedere la fascetta allora facciamo così ok vediamo che non mi rimanga in mano ok è un po' grippata per via della ruggine quindi ci farà un po' dannare bisogna avvitare e mollare avvitare e mollare e sperare che riprenda sentito che si sta sbloccando due sono le cose o si sblocca o si spacca prendiamo un po' di svitolo o vd 40 il primo che trovate è questo della ericsson ce lo facciamo andare bene lasciamo un secondo lasciamo agire ok vediamo se comincia a collaborare direi che si adesso la molliamo appena appena una volta che sia riuscita a mollarla la cerchiamo di girare in modo che riusciamo a svitarla in modo più più facile ok nel mio caso non è stato relativamente facile quanto ho dovuto tagliare la vite per liberare la fascetta perché era incrostata di brutto ed è ancora incrostata di brutto ok sbloccato il catalizzatore santa peppa peggio di un parto allora questo è fatto questa arriva di là e adesso direi che non c'è altro da fare che sfilare il cat vediamo un po' se ci deve farti volare ancora un po' cerchiamo di tenere ferma la moto questa è sganciata la fascetta la scartiamo e la mettiamo di là direi che non c'è più niente che ce lo tiene su quindi con un po' di garbo ok se ne sta venendo via piano piano vediamo se riusciamo a darci un po' di svital dove serve no le è venuto via mettiamolo da parte madonna quanto pesa nel kit è compresa allora questa niente carta pluriball il tubo e una staffetta di fissaggio per sostenere il tubo questo è il nostro bel tubo questo qua non lo prendete mai ma l'ho comprato su aliexpress tanto un cavolo di tubo d'acciaio inutile pagarlo una vacata di soldi quando la funzione principale è solo tenere su è solo togliere il catalizzatore tubo d'acciaio e cammina ok qua c'ha due punti di fissaggio ah perché sono due uno di qua uno di qua perfetto vedete la staffa sta su si innesta nel suo punto e poi si mette il bullone quindi noi andiamo a inserire vediamo un po' se le quote sono quelle corrette andiamo a inserire il nostro decat vole ah vabbè ovviamente questo adesso va portato prima in avanti fino in battuta ok e poi inserito il tubo e poi andrà fissato così noi adesso puntiamo il tutto una volta puntato tutto si procede a serrare quindi per questo bulloncino ci vogliono due da dieci due chiavi da dieci meglio una cricco cioè scusate una brugola e una chiave da dieci vabbè sarò una cinque una sei giù di lì però noi intanto prima puntiamo il tutto e poi stringiamo così una volta che tutti i pezzi sono messi al proprio posto riusciamo a lavorare come si deve nell'altra mesiera grippata questa gabbietta qua che dovrei avercela di là che sono sembrano le classiche gabbiette da quadri rack da quadri dati di là c'è no perché facevo prima l'elettricista facevo quadri rack e quindi dovrei avere un sacchetto di cui pezzi adesso andiamo a fissare il nostro terminale terminale puntato e adesso andiamo a serrare il collettore al tubo il nostro 8 si è messo anche vento fantastico come sono felice come vedete ho recuperato un da da gabbia si chiamano così è un bulloncino da metterci così almeno andiamo a sistemare quel problema andiamo a mettere la sua fascetta adesso riusciamo a farla girare incidenti ah yeh ah ma una gioia gole quella magari la mandiamo un po' in dentro tanto chi se ne frega rimane sotto e si va a serrare bene mano a mano che serriamo vedremo che si va a chiamare il tubo poi comprerò le due guarnizioni vedo se riesco a trovarle online se non vado direttamente KTM ci metto le due guarnizioni per lo sfiato della marmitta tanto essendo così libera non è che sfiati più di tanto adesso andiamo a stringere pure di qua 1 e 1 2 ok l'ultima stretta l'abbiamo andata adesso stringiamo la 10 dal terminale togliamo un po' di ferri da mezzo i piedi non ci resta che accendere vediamo un attimino spero non sia esageratamente rumoroso eh un po' di casino lo fa eh fa un po' tanto casino porca zozza vabbè proviamolo un attimo adesso andiamo a fare un giro intanto magari è arrivata forse la go pro attenzione attenzione mamma pack arrivata la go pro spettacolo andiamo a prenderla che dire come sempre iscrivetevi al canale attivate la campanella un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate di questo lavoretto e alla prossima ciao 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 ciao